Siamo alla Biblioteca Civica di Merano e adesso andiamo a scoprire i libri proposti all'interno del concorso Leggimi. La storia di Marco Balzano, quando tornerò, è una storia di personaggi vinti, di personaggi non protagonisti, che magari vivono accanto a noi. La storia di molte badanti, di molte persone che hanno lasciato il proprio paese per venire in Italia a lavorare. Una storia che è un esempio della vita di oggi. Partiamo dall'inizio. Quel mattino ci siamo svegliati come al solito alle 6 e ci siamo messi a cercare moma per tutta la casa. A un certo punto abbiamo persino spostato i mobili, come se moma fosse un anello o un mazzo di chiavi. Quando papà ha capito che sua moglie se n'era andata davvero, ha cominciato a prendere a calci le porte e a tirare pugni contro il muro. Io invece sono uscito sul pergolato, gridavo così forte il suo nome che dopo un po' anche mio padre mi ha ordinato di piantarla.